ciao sono francesco studente al terzo anno di storie storie del mondo contemporaneo sto voglendo attività di stage presso l'istituto salesiano a timaroni di varese come insegnante dall istituto è propositivo nell'organizzare attività alternative per i ragazzi in particolare io sto seguendo una monografia sugli anni 60 e 70 attraverso la musica quindi ad esempio attraverso l'iconico festival di gustoc parleremo dell'importanza del 68 e lo faremo quindi ascoltando canzoni come quelle di Jimi Hendrix, Bob Dylan, Timardi